Voi sapete cos'è Raptor? C'ero anch'io quando sono iniziati gli scavi e ho visto con i miei occhi lo stupore dei scienziati in l'X-Lab davanti a quelle uova provenienti da un luogo sconosciuto. Ho visto Raptor, ho visto le sue ali, ho visto la sua forza, ho visto la sua velocità, ho visto il colonnello Schwarz reclutare alcuni di voi per dimostrare quanto quello su Raptor fosse davvero un volo da brivido. Ho provato anch'io a farmi rapire e ho visto di cos'è Capazio. Ora so che Raptor ha un conto in sospeso, so che lo salderà con gli interessi e so che lo farà in un modo che non potete nemmeno immaginare ma che potete vedere. Grazie per la visione!